La vita in sonnita, Nero Cermone, mi ha lasciato delle comunicazioni. Io dalla fine alla vecchia, dal presidente del consiglio coronale, al sindaco, allo segretario generale, al consigliere Tavano, conoscetti, lo protocollo numero 29, 6, 3, 2, 10, 2, 3, 12, in Catoia. Comunicazione, il consigliamento cittadino 11, allargato ai cantati dell'ultima condizione vettorale amministrativa del maggio 2011, ha deliberato, nella regione 312-2012, di esplendere dal gruppo consigliare 11, il consigliere Andrea Romano, già precedentemente sospeso, a seguito delle recenti azioni assunte, nella seduta consigliare del 26, 9, 2, 12, di supporto alla maggioranza in maniera determinante. Il popolo che mi raccomanda l'ordine del giorno della seduta consigliare del 26, 9, 2, 12, ha cresso incontratibile la permanenza del consigliere Tavano del gruppo consigliare 11. La presenza in obbligazione è anche una scelta di chiarezza e di recupero della dignità della politica. Per il coordinamento cittadino 11, il gioco gruppo consigliare è mio condizio e per il coordinamento ha compitumato, sicc'è il tango del polizio costumato. No, 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 no. Signor Presidente, consigliere comunale tutti, guardate, io per la verità volevo essere molto subvenzione a tutti quei carrieri di tutti i carri che vanno avanti in me, non so che non è un obbligo, non è un obbligo, non è un obbligo di difendermi. A Bristola, Renzi, il 12 a Casoria, paga una problematica, che sono anni, che sono anni che a capo della democrazione cristiana di Casoria fa capo una persona, che è la minimo Carlo Cristiani, che di tutto riesce a fare la sua dignità, ma da anni di politico. E lo dimostra dei fatti, voleva il posto, però in politica, lo suo Cristiani è come una camicia, lo seggia, lo usano e viene usato solo in una bagna elettorale e poi un minuto dopo viene usato. E l'ha dimostrato con la confezione dell'altra, per dire degli ultimi, comunque di questo sono più brutte, però, caro Presidente, ho da legge anche di un'amissiva che ho preparato. Ho necessità di informare, preliminatamente presente e d'assoluta, in quanto a questo del contenuto della nota fatta, per dire, dal Comitato Cittadino di tutti i cittadini, che ha per liberare e spegne lo scrivendo da gruppo consigliare. Il Comitato Cittadino, in base allo secondo, il partito non è trovato di simili motivi, per cui non può esplendere i propri messaggi, atti con le organizzazioni a prendere il partito che hanno bisogno di esplendere gli spessi. La comunicazione del Comitato Cittadino è avvenuto fuori luogo dal momento che dimostra di informare che il Consiglio Comunale è trovato di propria volontà, di stessi dipendenti verso tutti e di maggior ragione verso i partiti che non possono in alcun modo condizionare di operabilità. Se si è rompendo l'incompatibilità tra i componenti di un gruppo consigliare, o si scioglie un gruppo consigliare, la Consiglio ha deciso attraverso i propri consigliamenti. Sicuramente mai potrà stabilire un partito politico che per questo non potrebbe stare così. Ma un partito politico potrà stabilire chi è o meno va a parte da un gruppo consigliare. E mai il partito politico attraverso l'assenzione di sua donna le decisioni contraddittime cosa ad entra o meno vale il Consiglio Comunale. Ragionare in maniera diversa significa essere completamente di solidarietà. Un partito politico l'unica cosa che può fare è quello di attivare i propri propri intenti per stabilire l'applicazione in medio di una attenzione verso un proprio e che poi, evidente, ha deciso di continuare, può riconoscere con il proprio esplitto, può essere del obiettivo. Anche non lo fa. Non lo fa. Solo se riporto se le discussioni dal partito, le guardie che ascunda e comunicata che un ciclo non potrà non preseare. Da un momento che si viene esposto dal partito non potrà più, ovviamente, essere potenato allo stesso, in Consiglio Comunale. Ma qui, a quel momento, il Consigliere destinatario del protettimento e delle soluzioni è là, appena edito, lo soggetto potenato a un partito in seno al Consiglio Comunale. Dovendo quindi ignorare la decisione assunta dal comitato che è assolutamente fuori misura, è ancora più evidente la circostanza che dovessi attenere alle uniche regole che effettivamente valgono in questo Consiglio, e che sono quelle di cui lo stesso Consiglio è deciso di votare. Andare oltre significa ignorare il valore dell'autonomia e dell'Assemblea e delle caratteristiche post-aprende dal Consigliere Comunale. In base al nostro regolamento esiste una precisa, non c'è nulla per l'indicazione del travoluto, così come esiste una precisa statistica che individua i casi in compatibilità con tale caratteristiche. C'è da oltre di nuca alcune in questo Consiglio Comunale che sottostritte l'unico e detestivo da un gruppo del giudicino, ed è bene ricordare che le condizioni necessarie in cui il Consiglio Comunale possa far parte di un gruppo consigliare si basa su un'esplicita dichiarazione di accettazione, a far parte di un gruppo stesso che il travoluto diverente da presente il Consiglio Comunale. Così come sempre, tra un gruppo a decidere fermando un metodo di condizionamento in che un componente possa continuare a far parte del proprio gruppo. Tra i soggetti di matale di un argomento sottoposto dalla nostra attenzione c'è anche il Consigliere Milo Comunale e di tale sua città, che da un prato di… Consigliere Amato, Consigliere Amato, in un certo momento stiamo rambiando, stiamo sottoposti di senso. PERみ mang comuni vengionali con tutti i gai vengionali con la sottoposti di testi con il gruppo di individuazione con la data che si no siete parti udendo con la base di prevenita con il gruppo di Carnivale con il nostro universo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.